Sicuramente Sapri ha dimostrato con un circolo naurico che ha 50 anni di storia di poter guardare avanti con determinazione, ha sfruttato il grande entusiasmo che c'è attorno a questa regata e lo ha fatto in squadra con il comune di Sapri, con il sindaco, con tutta l'amministrazione comunale e poi avere un sindaco in regata è qualcosa che non capita tutti i giorni nei mari italiani. E poi è un successo anche della città di Sapri perché c'è stato un grosso indotto economico in questi tre giorni con la presenza di centinaia di persone provenienti da tutta Italia. Sicuramente con il progetto Città della Vela e del Mare, la quinta zona FIV sta cercando e ci sta riuscendo a far capire che con le regate si va oltre lo sport e si ottiene un vero e proprio booster per l'economia del territorio. E dell'organizzazione del circolo nautico Sapri, un circolo nautico che ha oltre 50 anni di storia ma che si è rinnovato e ha vinto la sua scommessa, possiamo dire? È una scommessa vinta e adesso deve guardare avanti e candidarsi per un altro bel progetto organizzativo d'altronde ha un equipaggio forte e quindi può guardare con tanta fiducia già un 2025 ricco di eventi. La soddisfazione davvero è immensa, un gruppo, una squadra che ha lavorato incessantemente in questi mesi non ha mai mollato, ha sempre puntato all'obiettivo finale, il risultato c'è stato, siamo molto contenti un po' di vento in più, magari poteva consentire lo svolgimento di qualche prova in più ma il campionato si è concluso, fortunatamente abbiamo avuto dei grandi campioni nel nostro territorio la grande vela è tornata in campagna, è tornata a Sapri, nella nostra tradizione di circolo nautico è stata un'esperienza affascinante per tutti noi che abbiamo veramente creduto in questo progetto e abbiamo coinvolto l'intera comunità a questa grande manifestazione. Un circolo nautico Sapri che si rinnova nella tradizione, un grandissimo lavoro e Sapri ha superato ampiamente la prova e si prepara ad ospitare in prossimo futuro ulteriori importanti gare a livello nazionale. Sicuramente la nostra candidatura di questo evento che è stata effettuata dalla Federazione Italiana Vela è grandemente appoggiata e poi il risultato c'è stato, vuol dire che ha visto lungo noi vogliamo ripartire, non vogliamo fermarci qui, vogliamo utilizzare la spinta di questo entusiasmo di questo evento per portare a Sapri anche altri eventi di creatura nazionale. Tre giorni estremamente bello, ha riportato la grande vela a Sapri, il mondo della vela è questo è un mondo che va oltre anche la sola competizione, si crea gruppo con tutti gli atleti partecipanti ovviamente c'è l'agonismo in acqua, c'è l'amicizia a terra, è un'amicizia che inizia e che poi continua, questo è il bello della vela che insegna ad affrontare il quotidiano nel migliore dei modi anche nella vita normale, avere a che fare uno sport come la vela che ha a che fare con degli elementi, con il vento, con il mare, con il sole e con le difficoltà che si trovano in mare quindi ti aiuta a sorpassare anche dei momenti poi difficili successivamente. La tre giorni è stata fantastica, c'è tanto entusiasmo sia da parte del circolo nautico di tutti i soci, dei volontari ma anche dei tanti regatanti e siamo certi che torneranno a Sapri e noi continueremo a lavorare in questo modo per dare una mano al circolo, nell'organizzazione di eventi per promuovere sempre di più la nostra città ma per ridare al nostro mare il colore delle vele. Un momento che ha avuto di patrocini importanti e che rientra in un progetto che riguarda Sapri insieme ad altre città, città della vela e città del mare. Sì, quest'anno la quinta zona FIV ha ideato la città della vela e del mare inserendo anche Sapri tra le città della vela e del mare ma così come tutte le città che hanno ospitato delle regate nazionali quindi partendo da Napoli ad arrivare fino a Sapri è un'iniziativa estremamente bella, con il Presidente Lo Schiavo porteremo avanti questa iniziativa oggi qui il consigliere regionale Picarone ha preso anche degli impegni sul portare avanti questa iniziativa noi speriamo che a un punto di vista istituzionale venga ascoltata questa voce perché la vela come dicevo prima è tanto e dobbiamo portare sempre di più giovani a iniziare questo fantastico sport. Grazie Grazie Grazie